Notizia clamorosa quella arrivata nel pomeriggio di ieri, a sconvolgere un po' la tranquillità dell'appassionato di tennis italiano. Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre, suo coach storico fin quando era ragazzino molto giovane, si separano. Lo ha annunciato Berrettini con un sentito e lungo post su Instagram, senza dare delle motivazioni specifiche all'origine della decisione, ma insomma confermando quanto fosse profondo il rapporto tra questi due uomini. Un rapporto che è stato in un certo senso sempre molto ammirato, è stato una sorta di modello per la capacità di Santopadre, ovviamente anche di Berrettini, di riuscire a modificarsi nel corso degli anni a seconda degli stadi evolutivi del giocatore. Santopadre ha spesso descritto come abbia dovuto regolare il modo di interfacciarsi con Berrettini, cambiandolo da quando era ragazzino, poi al momento in cui è diventato un giocatore affermato addirittura una superstar negli ultimi anni. Dicevamo non ci sono motivazioni, quindi anche nell'analisi è complesso dire qualcosa, tranne manifestare una certa sorpresa e dire anche che la sorpresa è derivata dal fatto che personalmente faccio fatica a trovare delle ragioni tecniche e delle problematiche tecniche reali profonde nel tennis di Berrettini, tali da giustificare un avvicendamento tecnico così clamoroso. Però ovviamente sono logiche interne di rapporto, di visione della propria carriera che magari verranno spiegate meglio nei giorni a seguire. Dico questo perché Berrettini sicuramente ha degli aspetti ancora del suo gioco deboli, su cui dover lavorare, penso sempre all'annosa questione del rovescio, queste sono cose che si porta dietro da una carriera, mi sembra strano pensare che possa lui pensare di trovare delle soluzioni in un altro coach, soprattutto a quest'età. Quello che è evidente invece e che a me ha fatto pensare che ci potessero essere anche dei cambiamenti nel team di lavoro di Berrettini è la sua incredibile fragilità fisica che negli ultimi anni, ma quasi per tutta la carriera, ha portato ad avere una totale discontinuità nella presenza in campo e avere mille piccoli problemi che ne hanno segnato la carriera e negli ultimi due anni si sono addirittura acuiti. Era ipotizzabile pensare a un cambiamento sotto quell'aspetto, sotto l'aspetto della preparazione atletica, anche della preparazione psicologica, se vogliamo, visto il momento di difficoltà, appunto, perché magari un approccio diverso al lavoro fisico, al lavoro atletico, al lavoro fisioterapico di preparazione, poteva essere più attinente alle reali problematiche mostrate sempre da Berrettini. Ma tant'è, sarà molto interessante ovviamente adesso capire chi verrà al posto di Santo Padre, girano dei nomi che però non sono assolutamente confermati e quindi non voglio neanche diffondere ulteriormente fino a quando non ci sia l'ufficialità e allo stesso tempo però sarà molto interessante capire se ci sarà appunto anche un cambiamento intero del team di lavoro che era un'unità abbastanza compatta da quello che si è sempre percepito e saputo e quindi bisognerà capire se oltre a Santo Padre verranno sostituiti anche il preparatore atletico, il fisioterapista eccetera. Vedremo, Berrettini aveva appena annunciato l'intenzione di saltare l'ultima parte di stagione e ripresentarsi direttamente in Australia l'anno prossimo, è una scelta comprensibile che gli darà anche il tempo di allestire questo nuovo team di lavoro. Contemporaneamente nel pomeriggio era invece in campo l'altra star del tennis italiano, Yannick Sinner, che vincendo contro Rublev era una partita abbastanza complicata e sofferta grazie soprattutto all'ottima prestazione di Rublev, alla tenacia di Rublev e a una giornata al servizio leggermente meno brillante del solito di Sinner, poco concreto sul 5-4 servizio nel secondo set quando c'era chiudere la partita che poi invece ha avuto necessità anche di un tiebreak nel secondo set. Un Sinner però che nonostante questo per ampi tratti della partita ha mostrato questa grandissima forma delle ultime settimane, la combinazione servizio e dritto è stata ancora una volta eccezionale ed è eccezionale nell'ultimo periodo, sta facendo una grande differenza. Le percentuali al servizio da Pechino in avanti sono cresciute quel tanto che almeno personalmente ipotizzavo poter fare la differenza, per tutta la stagione ha servito intorno al 58% come percentuale di prime messe in campo, nelle ultime settimane invece è salito decisamente molto il 65%, ci sono più punti fatti ovviamente al servizio e ci sono molti più turni di servizio ottenuti, quindi anche i numeri stanno confermando questa crescita al servizio che poi va a aprire completamente il gioco e gli dà una tranquillità che è nuova e che è molto convincente quando la si vede in campo. Troverà Medvedev un'altra volta, il giocatore che ha battuto a Pechino con forse la migliore partita della sua carriera dal punto di vista tecnico, in cui è riuscito a mettere assieme tutto quanto di buono, prodotto probabilmente prima durante gli allenamenti e finalmente messo in campo tutto assieme nella partita contro Medvedev, giocata alla perfezione, riuscendo a esporre la posizione a risposta di Medvedev, facendo anche del serve in volley, riuscendo a essere subito molto incisivo in uscita dal servizio col dritto, mettendo molte prime, rispondendo alla grande, riuscendo a gestire estremamente bene i passaggi chiave della partita, e beh dovrà ripetersi perché Medvedev sembra in forma e sicuramente non si farà condizionare più di tanto dalla scorsa partita, conoscendo Medvedev potrebbe anche essere che non ci siano particolari adeguamenti dopo la sconfitta di qualche settimana fa a Pechino, Medvedev è parecchio cocciuto nelle sue linee tattiche, nelle sue scelte tattiche, tende a mantenerle anche contro l'evidenza di alcuni problemi, sto parlando essenzialmente della posizione risposta, molto arretrata, vedremo se invece cambierà qualcosa e soprattutto vedremo se Sinner sarà in grado di eseguire, perché poi la chiave oltre all'idea tattica è stata l'esecuzione perfetta di Sinner contro Medvedev certamente queste settimane sono incoraggianti perché sta giocando estremamente bene, sembra estremamente sereno sulla scia appunto di questo servizio che funziona così bene, gli trasmette una certa serenità complessiva all'interno delle partite a mio modo di vedere, diversa, e vedremo perché poi la chiave di tutto di questo salto di qualità di queste ultime settimane sarà la capacità di mantenerle nel tempo alcune percentuali legate al servizio e appunto questa lucidità nella visione tattica, nell'esecuzione, sarà comunque estremamente interessante.